Giovedì pomeriggio, nell'Aula Magna Leonardo e Sciascia del Consorzio Universitario, ci sarà la presentazione del docufilm Solo di Passaggio, Testimorianze in Cammino, Migranti e Libia. Il documentario è a cura dell'Osservatorio sul genere di crisi in Tripoli e promosso dalla Convenzione dei diritti del Mediterraneo. L'Osservatorio di genere in situazione di crisi ha come missione quella di aiutare le vittime di violenza ed abusi sessuali durante i conflitti. La Convenzione per i diritti del Mediterraneo ha istituito un tavolo tematico permanente che riguarda la mobilità umana come diritto inalienabile. Interverranno durante il dibattito Suad Al-Waidi dell'associazione Al-Marsed, che ha realizzato il docufilm, Alfio Foti, portavoce della Mediterranean Convention on Human Rights e Leo Luca Orlando, ex sindaco di Palermo.